Si sta avvicinando una ricorrenza che stimola la riflessione di tutte le chiese protestanti nel mondo, in Europa in particolare, il cinquecentenario della riforma protestante. Si assume infatti come data convenzionale dell'inizio della riforma la fissione da parte del giovane professore di teologia Martin Lutero delle sue 95 tesi sul portone della chiesa del castello di Wittenberg nel 1517. Una data molto significativa che ha aperto una lunga stagione di confronto. È molto tempo infatti che le chiese europee riflettono dandosi ogni anno un tema per elaborare riflessioni specifiche. Lo scopo è comprendere nuovamente cosa voglia dire essere protestanti 500 anni dopo quella rivoluzione. Com'è cambiato il mondo? Com'è cambiato l'essere cristiani? E come portare la propria testimonianza in questo tempo? Claudio Paravati, membro del Comitato Permanente per le Opere Evangeliche e Metodiste in Italia, membro della Commissione 2017, racconta di come le chiese metodiste e valdesi stanno arrivando a questo appuntamento. Anche le nostre chiese, l'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, si è dotata di una commissione ad hoc per lavorare in vista di questa data. La prima cosa da segnalare è che è una commissione fatta con i luterani in Italia, con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. È significativo il fatto che la facciamo insieme perché è un percorso non scontato in Europa. Voglio dire, riflettere sulla data del 2017 che ricorda Lutero in particolare, ma farla come protestanti storici quindi anche con i metodisti, con i valdesi e i luterani stessi, è un percorso particolare italiano ed è una piccola testimonianza che l'Europa guarda con interesse e favore. La ristritta presenza luterana in Italia ha fatto sì che si sia sempre sentita legata a quella tedesca. Moltimamente sta emergendo una maturità e un segnale di cambiamento per cui si vuole essere chiese protestanti in Italia. In questo senso è un bel segnale il fatto che all'esposizione mondiale organizzata a Wittenberg nel 2017 le chiese italiane presenzieranno insieme, per testimoniare la volontà di un cammino comune in questa nazione. Le necessarie riflessioni tematiche sono un passo importante e preliminare, ma dal punto di vista organizzativo ci sono delle proposte concrete per definire quello che avverrà fra due anni. L'idea di fondo è quella di creare un evento nel quale sia possibile sia incontrarsi, sia mostrare che cos'è il protestantesimo in Italia, ma anche cogliere l'occasione per fondamentalmente votare, mettere insieme queste chiese, quindi stiamo parlando delle chiese valdesi, metodiste, le luterane, ma aperte invitando anche i battisti e altre chiese protestanti nel paese per votare insieme in qualche maniera una confessione di fede, per così dire, un documento teologico scritto per i tempi di oggi, cioè questa è un po' l'ambizione. Per fare questo la commissione ha nominato un'ulteriore commissione tecnica, cioè composta da teologi e da laici impegnati, per così dire, riscrivere con le parole di oggi cosa significa essere protestanti. Questo secondo me è un passo importante, perché assumere insieme un documento di questo tipo vuol dire aprirsi alla nazione e dire noi siamo anche qui, partiamo da qui e lo facciamo però a porte aperte. Quindi è stato pensato un evento che in Germania fanno da molti anni il Kirchentag, pensato su quella falsariga anche, una specie di, si è pensata anche a Milano come città, una specie di percorso dei protestanti nella città, aprire i luoghi di culto, banchetti, presentare una cartina della Milano protestante, cose che non si vedono normalmente per il cittadino medio. E infine la votazione di questo documento unito. Questo ci è sembrato il modo migliore di mettere insieme tante cose, far vedere chi sei, poter mostrare la storia, poter mostrare i luoghi dove abiti e anche fare un passo di unione più solido. Ma cosa caratterizza i tempi di oggi? I tempi di oggi sono complicati, sicuramente un lavoro di traduzione, di cosa voglia dire, su quali sono le tue parole di riferimento del tuo essere cristiano, in particolare protestante, e quindi testimoniare questa tua fede, necessita anche di un lavoro di traduzione, che non vuol dire solo parole nuove, non vuol dire naturalmente appiattirsi agli slogan, però vuol dire rispondere a quello che accade oggi. La domanda di cosa accade oggi è complicata, è ampia, abbiamo appena sentito alcune delle sfide che oggi abbiamo. Ecco, da questo punto di vista il tentativo delle chiese italiane, ma in tutta Europa c'è un po' questa tendenza, è quella di non fare una celebrazione solo telescocentrica, quindi non solo sull'utero, ma avere la forza e l'intelligenza di aprirsi a tutti i movimenti protestanti. Molti sono stati trascurati, ma intendo proprio dagli studi, cioè sono stati trascurati dalla teologia, dalla riflessione, si vuole anche recuperare questo mondo, che è una delle priorità, secondo molti della Commissione, dell'ecumenismo di oggi. Quindi l'ecumenismo di oggi parte anche dagli altri protestanti che ci sono a fianco. Sicuramente un segno dei tempi è il fatto che il Comune di Roma ha deciso di dedicare una piazza sul Colle Oppio al riformatore tedesco. La richiesta fatta nel 2009 in vista del cinquecentenario della venuta di Lutero a Roma era stata accettata l'anno seguente. Tra poco, il 16 settembre, avverrà infine l'inaugurazione di piazza Martin Lutero. Dico anche che un'iniziativa europea in vista del 2017 è quella della città della riforma. Una specie di accreditarsi come città della riforma, cioè un luogo significativo dove la riforma in qualche maniera ha vissuto. In Italia siamo un po' indietro, speriamo di poter recuperare qualcosa perché io credo che Roma, paradossalmente, paradossalmente perché naturalmente c'è il Vaticano perché è lì che Lutero però è andato per prendere coscienza un po' del suo pensiero. Anche Roma può diventare un centro di pluralità e quanto è importante oggi un centro di pluralità che riconosce i nomi della storia, i nomi delle minoranze nel momento in cui l'Italia è guarda il Mediterraneo? Ecco, questo potrebbe essere molto significativo non solo per la storia dell'ecumenismo ma per la storia di un paese, della storia politica di un paese e di un continente, cioè l'Europa.